Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze, tre chilometri di coda tra Ponte d'Eraest e Montopoli-Val d'Arno. In direzione Livorno, un chilometro di coda tra Santa Croce-Sull'Arno e Ponte d'Eraest. Fare attenzione per un incendio e fumo segnalato tra Interporto Toscano-Est e Interporto Toscano-Ovest. Per viabilità esterna che non riceve code a tratti in direzione Firenze tra l'Astra, Signa e Firenze-Scandicci. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!